È una storia assurda, ma pensandoci bene rifarei ogni cosa perché altrimenti non ci saremmo mai incontrati. Che tipo di trip assurdo è questo? Sono un ragazzo. Ok. Ismael! Non sono Ismael, mi chiamo Lea. Scambio di corpi, come nei libri di fantascienza. Ma che giorno è? È pazzesca. Il tormentone dell'estate. Questa è casa mia? Papà. Completamente fatto. Mamma, sei così giovane. Ok, ora mi sveglio, ora mi sveglio. Sono mia madre! Io ho viaggiato nel tempo. Ma non è pericoloso questo? In seguito alla scoperta di un cadavere non identificato. Per questo mi hai cercata. Vuoi che capisca cosa ti è successo? Tu e papà conoscevate di sicuro Ismael, Mesauden. Sapevamo chi era, non lo conoscevo bene. Perché è mente? Lei non sarà collegata alla tua morte. Cos'è successo con Ismael? Non ti sarai presa una cotta per un ragazzo che è morto 30 anni fa. Qualcuno ti ha ucciso. Ma chi? E in qualsiasi corpo dovessi finire, ti salverò, Ismael. Sta succedendo ancora. è sixty-la così. Ma chi è pronto?